Le coccole non sono a senso unico. Un lavoratore contento, cioè tutelato nei propri diritti, saprà produrre anche un cliente contento, cioè un turista soddisfatto dei servizi ricevuti. A ricordare i diritti dei lavoratori stagionali del turismo è la Filcams CGL, che in provincia di Chieti è impegnata nella campagna di sensibilizzazione Il lavoro che non vedi vale. Oggi gazebo sulla spiaggia di Francavilla al mare. Siamo voluti andare su tutte le spiagge, in tutti i luoghi di turismo, per parlare anche con i turisti, non solo con i lavoratori. Primo perché in fondo i turisti sono anche dei lavoratori che si stanno riposando e che quindi possono avere la sensibilità di capire e di comprendere che mentre loro si riposano c'è qualcun altro che sta lavorando, sono i camerieri, le signore delle pulizie, i cuochi, i bagnini e che purtroppo in questi settori lavorano spesso con pochissimi diritti, con lavoro nero oppure grigio, non saltano riposi, tantissime ore di lavoro. E quindi noi vorremmo raggiungere questo doppio obiettivo, sensibilizzare i turisti su questo aspetto per far crescere anche la cultura del lavoro e la cultura dei diritti. Potremmo veramente lavorare per costruire un'alternativa reale, cioè diciamo non solo metalmeccanica, non solo manifatturiera, ma anche una regione che è in grado anche di offrire un lavoro tutelato, di qualità e professionale ai propri giovani, che forse anche loro spesso tendono ad andare via. Anche il lavoratore del turismo è un lavoratore dove richiede molta professionalità, bisogna saperlo anche pensare, fare, bisogna saper gestire le persone e creare qualità. Quindi è una grande opportunità e diciamo che diritti e qualità camminano di pari passo. Un punto è che spesso questo è un lavoro precario, nel senso che è un lavoro stagionale, ovviamente questa non è una costa che ha la possibilità, se non in pochissime strutture, di garantire un lavoro tutto l'anno. Quindi è un lavoro che è alcuni mesi l'anno. E quindi ovviamente per essere richiamati, per avere questa opportunità, uno magari deve sottostare, nella migliore delle ipotesi, firma un contratto, che ne so, a 10 ore alla settimana sulla carta, però invece poi ne fa 40, ne fa 50 alla settimana. Il problema è che in questo modo la sua disoccupazione sarà molto bassa quando finirà di lavorare. Oltretutto le riforme che sono state fatte sugli ammortizzatori sociali hanno tagliato la durata della disoccupazione, soprattutto questo con effetto sul lavoro stagionale. E quindi diciamo che non c'è contribuzione previdenziale, quindi non c'è costruzione di una pensione futura, non c'è disoccupazione quando si smette di lavorare, però tutto questo uno dice lo ingoio perché l'anno prossimo questi tre mesi vorrei rifarli perché ne ho bisogno. Grazie.